Buonasera a tutti dal Palazzo Comunale di Merilli. Sono qui insieme al Sindaco di Augusta per raccontare la quotidianità e l'occasione che ci vedo oggi qua riuniti al Comune di Merilli per discutere dell'insediamento di tre assistenti sociali e di due sociologi selezionati dal distretto sanitario dei Comuni di Merilli e Augusta. Questa è una cosa strana che sta accadendo perché in questa disciplina sono stato io il Presidente del distretto. Di solito il Presidente è stato sempre il Comune di Augusta ma nell'occasione che il Comune di Augusta ha avuto un periodo di difficoltà finanziarie il Comune di Merilli è subentrato con la Presidenza del distretto e ci siamo presi il compito di attivare tutte le procedure sia regionali che locali per recuperare le somme che i miei predecessori e i suoi predecessori avevano trascurato e che quindi il fondo non poteva essere impiegato per supportare gli uffici comunali di Augusta e Merilli e questa carenza ha comportato che gli uffici in panne perché spogli da dipendenti e senza assistenti sociali e tecnici come i sociologi e ulteriormente i psicologi che saranno assunti con una selezione che è in corso si sono visti sprovvisti di personale e di risorse per potere in certo qual senso concentrare tutte le attenzioni, le risorse e le energie per attenzionare i fondi di inclusione soprattutto attenzionare le persone che non ce l'hanno fatta, che sono in difficoltà, che hanno bisogno di assistenza e che hanno bisogno di sostegno. Ci siamo attivati nel produrre tutta la documentazione con l'ufficio delle politiche sociali del Comune di Merilli, con il mio staff, con i consulenti che mi hanno aiutato ad aumentare l'attenzione verso queste politiche inclusive dove hanno visto il Comune di Merilli attore, protagonista ma soprattutto capofila di un meccanismo che era totalmente incastrato, bloccato, con una platina di cemento sopra e che non veniva considerato da quello che era l'atteggiamento politico di questo ente e dell'ente del Comune di Augusta. Insieme ai due uffici, la sindaca uscente e l'entrante Giuseppe Di Mare, in sinergia fra i due comuni, siamo riusciti a sbloccare le somme, fondi importanti e selezionare questo personale che oggi avrà e darà l'opportunità a questo ente, il Comune di Augusta, di superare il limite che è la mancanza di personale e poter finalmente dare un'assistenza degna alle fasce deboli e soprattutto fare fruire tutte quelle persone di opportunità che oggi vedono con difficoltà negarsi. Io voglio essere onesto, non è che in questi anni pensavo di arrivarci così tardi. Il Covid ha influito, il problema scatenato dalla pandemia e la carenza di risorse economiche che ha visto i comuni vedersi sempre più al limite, isolati da quello che era la centralità dello Stato italiano, sicuramente potevamo fare di meglio e arrivarci molti mesi prima. Il contesto sociale e ambientale non ci ha aiutati, ci arriviamo solo oggi, in corso c'è un'altra selezione e su questo aspetto sono ancora molto critico perché vanno dette le cose buone e le cose non buone. Oggi è un giorno di festa perché quando si assume nella pubblica istruzione è sempre un giorno più bello del giorno prima e si ha un senso anche di trasparenza e di opportunità sul territorio perché si condivide un meccanismo inclusivo e si dà l'opportunità a professionisti che hanno fatto investimenti nella loro vita di approfondire culturalmente e attenzionare specialmente questi settori che non sono settori per i sindaci facili perché ci vedono coinvolti nelle vite delle persone di supportare gli uffici importanti come il Comune di Mediglia e il Comune di Augusta che ora come non mai sono stati in crisi per la crisi che sta generando la crisi della zona industriale, parlano tutti di economia, ma il fatto sta è che la disoccupazione licenziata nella zona industriale aumentano e i nostri uffici delle politiche sociali fanno oggi presa con tutti quei nuovi poveri, vogliamo dire così, che sono in difficoltà perché hanno perso il posto di lavoro e non perché non l'hanno mai avuto. Questo è il meccanismo principale che ci preoccupa i sindaci sul lato dell'economia, l'altro è portare avanti progetti e previsioni e progettualità per dare ai Comuni una progettazione sulle politiche sociali e le politiche di inclusione. Se continuo ancora divento ancora ripetitivo, quindi ringrazio Giuseppe Di Mare che è stato presente e puntualissimo qua a Melilli per onorare l'insediamento di queste nuove figure che io ringrazio per aver accettato perché questo è un momento dove la sanità chiede anche queste figure, quindi per noi siamo onorati di ospitarvi, noi siamo anche contenti di avere persone anche di esperienza perché ho visto che le commissioni selezionatrici mi hanno mostrato chi erano le persone, persone che hanno tante esperienze, persone che hanno vissuto questo atteggiamento anche sotto altre esperienze, quindi possono dare un valore aggiunto a quelle che sono le nostre battaglie quotidiane che facciamo per aumentare il tasso di socializzazione all'interno delle nostre città. Un ringraziamento agli uffici comunali, alla dottoressa Laganà che si è occupata di tutta questa storia perché oggi si arrivasse all'insediamento, alla commissione che ha selezionato tutti, dovete sapere che le commissioni hanno tolto lavoro alla quotidianità per poter selezionare le persone in un momento dove i comuni eravamo in emergenza e c'era il covid. Non conosco i componenti perché le selezioni si fanno con le persone che hanno con la massima trasparenza, quindi la politica si disimpegna da quella che è l'atteggiamento delle commissioni selezionatrici, voi ne avete avuto frutto di questo. Per condividere con tutti quello che è un benvenuto, ma vi chiediamo, io gentilmente, poi il sindaco di Augusta spero lo farà pure, vi chiediamo di darci una mano perché questi enti sono fortemente in difficoltà su queste azioni e fortemente in difficoltà perché in grave ritardo e non per responsabilità nostra, ma per responsabilità di chi non ha dato le giuste attenzioni a questo meccanismo così importante che sono le politiche sociali. Io vi ringrazio, il mio più grande abbraccio virtuale in quanto dobbiamo stare lontani che c'è il covid e in bocca al lupo per la presenza sia a Melilli che ad Augusta e grazie a Giuseppe Di Mare e al Comune di Augusta che ci ha dato questa opportunità di farci pilotare, guidare quello che è stato un meccanismo finalmente inclusivo per i comuni. Si cambia tendenza, si assume e non si manda solo la gente in pensione. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue online, grazie soprattutto dell'ospitalità e della collaborazione al sindaco di Melilli Carta, agli uffici che hanno curato quest'atto importante. Vedete ci sono tante riflessioni positive che si possono fare da questo momento di festa per recitare le parole del collega. Innanzitutto io sottolineerei anche la sinergia tra i comuni da questo punto di vista. È un elemento importante, devo dire che sin dal mio insediamento ho trovato una persona disponibile e soprattutto attenta ai bisogni delle due città, nel sindaco Carta, con cui sono sicuro riusciremo a continuare ad avere questo spirito di collaborazione per il bene del territorio. Un'altra riflessione che mi sento di fare ma che già in qualche modo è stata anticipata oggi più che mai alla luce dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il tema delle politiche sociali, dell'assistenza, dell'ascolto di chi ne ha bisogno è un tema fondamentale su cui bisogna investire risorse e professionalità ed è un tema che è stato abbandonato negli ultimi anni, è un tema su cui le dovute attenzioni non sono state poste, probabilmente perché non si pensava che la società attuale poteva arrivare ad una situazione difficile che c'è oggi con un netto collasso tra chi sta bene e chi non sta bene. Un ascolto che molte volte per vari motivi viene demandato alle parrocchie o alle associazioni di volontariato. Noi oggi con questo segnale importante io ribadisco i miei ringraziamenti a tutti gli uffici che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo al Comune di Melilli perché è un segnale importante, è un segnale importante perché si assume e quindi si inverte questa tendenza ormai da troppo tempo ma perché si danno anche attenzioni importanti, si assumono dei professionisti che dovranno lavorare per far sì che questa, per non far sentire da soli i nostri cittadini. Oggi più che mai, oggi più che mai è importante che nessuno si senta solo, oggi più che mai è importante che i comuni riescano ad intercettare le esigenze totali del territorio, soprattutto di chi è in difficoltà. Oggi più che mai è importante per i comuni andare a coprire quelle difficoltà, quelle mancanze in questi settori perché probabilmente è stata fatta una programmazione nel tempo, a volte anche dovuta perché i tagli che sono stati fatti sono stati fatti spesso in settori che meritano maggiore attenzione. Quindi benvenuti a tutti in bocca al lupo per il proseguo. Sono sicuro che anche grazie al vostro supporto, riusciremo a dare risposte più efficaci nei confronti della innumerevole quantità di persone che oggi ci chiedono aiuto, che oggi lanciano un grido di allarme nei confronti di una società che molte volte è disattenta ai bisogni degli ultimi. Grazie Sindaco. Io per diritto di cronica e quindi per diritto anche alla trasparenza nomino chi sono i nuovi assunti e quindi chi farà parte dello staff comunale del Comune di Augusto e del Comune di Merilli. Sono la dottoressa Fazio Elisa, assistente sociale, chi è? Benvenuta. Di Rosolini Giuseppina, assistente sociale, benvenuta. Turco Serena, assistente sociale, benvenuta. Borbonico Giuseppe, sociologo, benvenuto. Borbonico, qua c'è scritto, chi me l'ha mandata? Il T9 ha voluto che la trasparenza se ne andasse a quel paese, ma comunque sta nel gioco delle dirette questo, no? Quindi Borbonico, com'è la storia? Bordonaro, Cosentino, Nunzio, sociologo. C'è una differenza tra maschi e donne nelle due categorie, puramente casuale. Speriamo di fare una parità, diciamo di mettere i maschi alla pari, perché ormai così è, la parità maschile, la guata blu dobbiamo cercare. E quindi con l'augurio che le donne possono essere sempre più rappresentative, speriamo che la Commissione deve selezionare i psicologi, faccia un po' di donne e un po' di uomini, così che spezziamo questa catena di soli uomini e soli donne. A parte gli scherzi, noi siamo veramente contenti, io mi aggrego a quello che è l'espressione del sindaco di Augusta. Noi siamo abituati a non vedere, la nostra generazione politica, e lì c'è un consigliere comunale appena eletto nel comune di Augusta, che è il dottore Lombardo, famoso cognome di Augusta tra l'altro, siamo abituati a vedere uscire le persone del comune. Quando vanno in pensione? Io ho sempre chiesto quando vanno in pensione. Non ho mai detto a qualcuno benvenuto al comune. Farlo da sindaco e farlo dopo aver assunto diversi tecnici e anche qualche persona specializzata, che ho visto anche sotto altre forme di collaborazione, fruire il mio ente, questa è una delle cose che onora il nostro mandato da politici, che il fatto di fare intervenire persone esterne nel proprio ente è sempre una cosa favorevole, a prescindere le mansioni, a prescindere se le attività poi sono inizialmente o per sempre temporanee o viceversa inizialmente temporanee e poi indeterminate. Purtroppo la pubblica amministrazione, su questo dobbiamo dire, ha visto tre ministri girare, l'ultimo è un ritorno al futuro che da noi non porta bene per niente, ma speriamo che la pubblica amministrazione crei meccanismi inclusivi e non esclusivi nel mandare alle persone. Noi siamo qui e speriamo che in tutto quell'altro tempo che ci rimane a disposizione di governare, di poter attenzionare altri momenti come questi e augurare ancora in bocca al lupo a professionisti che soprattutto hanno approfondito nella vita il merito e l'esperienza e la condizione di non superficialità nella pubblica amministrazione sono essenzialità e meccanismo di programmazione. Grazie, noi ora, se è possibile, se Antonino, il mio segretario particolare, è possibile fare la foto del gruppo, facciamo la foto del gruppo, se tutti siete disponibili la facciamo così, la mandiamo alla stampa, questo solo per dare un segnale di innovazione, di modernità e soprattutto di trasparenza perché il nostro obiettivo è quello di essere trasparenti e comunicare all'esterno così come le leggi citano. Grazie Giuseppe Di Mare, grazie a tutti, grazie alla stampa, alla prossima volta.